buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sempre da Firenze ovviamente secondo giorno qui e oggi l'intenzione è quella di esplorare il più possibile quello che è la parte principale della città per poi dedicarmi domani a quello che mi rimane e all'oltrarno vediamo cosa riesco a fare e vi faccio vedere ciao 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 bene ragazzi come ogni fine video di questi appunto tour vi faccio un breve resoconto finanziario della mia giornata cominciamo con i 18 euro che ho speso per farmi il biglietto che vale per il duomo la cupola il campanile il battistero santa riparata che è sotto al duomo più il museo che c'è appunto di fianco quindi i 18 euro comprendono proprio tutto 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 in quella in quell'area lì per pranzo all'antico vinaio ve l'avete visto su instagram e le storie sono ancora in evidenza potete vedere i 6 euro che ho speso 5 per la schiacciata un euro per la bottiglietta d'acqua e devo ammettere che è davvero uno spettacolo quindi andate all'antico vinaio fatevi un pochino di coda però veramente merita successivamente 6 euro per la basilica e il museo di san lorenzo non comprende però le cappelle medicee o medicee come diavolo si dice che non ho fatto 8 euro li ho spesi per la galleria dell'accademia mentre per la cena ho speso solo tra virgolette 6 euro e 10 e per finire sono riuscita a trovare visto che siamo ancora prima di natale per me ho trovato il regalo per i miei genitori e insieme i due regali mi sono costati 30 euro niente di che ma insomma conta il pensiero diciamo così quindi io spero che questo secondo video da Firenze vi sia piaciuto nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi nelle mie avventure in diretta detto questo io vi saluto e vi dico have a nice life